let's go bentornati ovetti su super mario 3d world nello scorso episodio mi sono lamentato con me stesso per non avere ancora preso un gruppo di continuità e in questo episodio finiremo il mondo castello barra mondo 7 quindi cominciamo con il livello castello 5 torrione delle chiavi con pitch esatto ve l'ho promesso quindi adesso useremo pitch allora abbiamo un fiore di fuoco perché non averlo cioè perché non equipaggiarlo non schiacciarmi tuom ok allora vediamo un po non posso girare la telecamera ma sei serio cioè mi va bene ma devo stare un po più attento allora vediamo un po c'è qualcosa di interessante qui si c'è pitch gatto quindi adesso stiamo attenti e cerchiamo di non failare niente ora entro oggi o meglio oggi finiremo il mondo 7 come ho già detto l'unica pecca è che devo pensavo mi schiacciasse ok è che devo stare attento perché non voglio morire disse lui allora come posso per caso andare se posso arrampicarmi sopra al tuomp perfetto allora scendi giù tuomp perfetto fammi andare avanti tuomp e proseguiamo per il livello dunque camex tu vai via camex tu vai via camex e l'ultimo camex va via qui ed ecco qui una stella si una stella perfetto ma da quello che so esatto c'è un inganno del teostra vero dov'è è qua a destra qua sinistra perché so che c'è un inganno non so dove a eccolo qua l'inganno del teostra quindi uno e due due collezionabili in un solo colpo nice vero se non sbaglio posso per caso arrampicarmi così per tornare in fretta su senza dover fare cose strane sembra essere possibile ed è assolutamente possibile perfetto quindi abbiamo già due stelle abbiamo già un timbro direi che posso andare avanti nel coso strano che poi cosa sarebbe questo coso scusate è un coso da circo ma non è un livello da circo cerchiamo di stare attenti allora abbiamo bisogno di una chiave quindi prendiamo una chiave ma stiamo attenti a questi cosi quindi ciao ciao ciccio cosa mi dai cosa mi dai niente davvero niente ok va bene da chiave ok adesso tu vai via non ho bisogno di stress da questi cosi viola quindi ciao ok perfetto dammi la chiave perfetto allora tu non mi darai problemi mio coso strano viola ok per caso il coso si abbassa se ci sto io sopra sì perfetto allora deve passare peach grazie tu vai via ciccio ok e qua c'è qualcosa sì c'è l'ultima stella verde nice allora inoltre abbiamo già quasi preso l'ultima chiave quindi posso fare così rimbalzare prendere l'ultimo frammento di chiave e oh mio dio la musica si è fermata ho detto che succede a quanto pare succede che devo correre tipo via subito a quanto pare ho fatto immensamente bene a distruggere quei cosi allora attenzione qua no non posso scendere più scendi scendi picci scendi picci ok allora corri picci picci ok errore mio errore mio non è un problema ma devo stare attento ok a quanto pare devo solamente correre via e se non sconfigo questi cosi viola potrei avere segiamente qualche problema quindi fluttua e sconfiggi questi cosi viola peach ok allora vediamo un po devo non perdere ok ciao coso viola perfetto hanno sicuramente un nome lo so il nome assolutamente no ma ripeto non è quello il problema forse ci conviene forse ci conviene lasciare un frammento di chiave ossia questo magari e prenderlo dopo forse avrebbe senso sapete ma io posso rompere questo coso così come si fa un attimo ok con y ok quindi si può comunque prendere la stella senza problemi ok cosa molto importante da sapere in effetti vediamo se sto facendo bene o se sto sbagliando a fare queste cose allora tu vai via e adesso se non fallisco ok no il coso si attiva lo stesso quindi non si può citare il sistema allora peach devi tipo correre abbiamo sbagliato prima non so neanche io perché ma una cosa la so ok abbiamo preso la chiave e devo correre tipo subito adesso giù perché altrimenti potrei avere qualche problema allora beach corri beach corri ok vai giù e siamo salvi fiof seriamente fiof telepotation e siamo in cima alla torre quindi direi che posso prendere la cima del rag por però si nice livello completato da peach perché ho fatto quella voce non lo so neanche io ma so che abbiamo finito il livello e abbiamo sconfitto came che abbiamo ottenuto il timbro di kamek ma ora come ora non importa vero quindi 189 stelle saltavano sul letto una cadda in terra e si ruppe il cervelletto e abbiamo il livello 57 sbloccato ma prima di proseguire devo andare qui ma non abbiamo un power up quindi preferisco andare prima nel tubo vedere cosa nasconde il tubo e poi a capitan toad perfetto e allora andiamo capitan toad e la fabbrica di tuomp dunque suppongo di dover seguire la strada quindi andiamo qua siamo attenti ok cerchiamo anche di girare la telecamera quando ci serve perché altrimenti problemi extra ok i razzi non ci seguono cosa molto buona allora siamo qua corri perfetto capitan toad non ci vedo molto bene effetti a devo andare qua ok allora ok no un attimo solo è ci vedo poco quindi cerchiamo di girarci bene per vedere dove devo andare a non posso saltare a sono salvo però grazie allora c'è qualcosa qua in effetti sì c'è una stella ok stella ottenuta ok siamo due stelle ce ne mancano altre tre attenzione qua posso quanto pare arrampicarmi qua sopra quindi vai via grazie che bella canzoncina vero via qua non c'è niente là sotto vero perfetto allora adesso se vado qua prima beh vedo alcune cose a devo andare là poi come si arriva la sopra no a sila ok perfetto allora aspettiamo un attimo che se ne vadano i bullet bill qua perfetto quella quindi è l'ultima stella da premere siamo vivi o no siamo diventati piccoli toad ok non è un problema ma stiamo attenti allora vediamo un po se riesco ad organizzarmi abbiamo praticamente finito è non è un grosso problema fare questa cosa ma è la prima volta che perdo un punto vita con capitan toad cercate di capirmi fine livello giusto giusto capitan toad was demoted ma non importa perché livello completato inoltre non abbiamo perso il power up di pitch capitan toad e pitch sono due entità separate fortunatamente allora detto ciò un bel polistelle 194 arriveremo a 200 oggi è molto probabilmente anzi sicuramente quindi adesso possiamo uscire andare ad affrontare un altro mini boss ossia questo coso qua rivincita con principe bronco tuttavia stavolta senza power up voglio provare a farlo senza power up per quello inoltre è molto più facile con pitch visto che possiamo fluttuare fluttuare ok quindi tutto a fluttuare vai fluttuare no colpiscilo mentre fluttuare ok perfetto wow il principe bronco è più debole dei normali bulli ma non è un problema vai sbatti livello completato quindi ci mancano solamente tre livelli tre livelli si tre livelli da finire quindi eccoci qua con un bel punteggio che non ci interessa e quindi adesso è il momento di affrontare un livello che mi sfugge che si chiama vediamo un po' oh è un livello subacqueo la gioia vabbè eccoci qua livello castello 6 fondali degli squali martesto capita perché hanno dei martelli sulla testa cioè no ma non importa ok non ho creato io i nomi di questo gioco non è un grosso problema spero si va giù nel blu dipinto di blu felice di stare qua giù perché siamo in fondo al mare in fondo al mare ok basta basta ho già fatto due riferimenti a due canzoni diverse non voglio fare altri riferimenti a canzoni che non siano quelle ora questi pesci martesto sono grandi e ne abbiamo già incontrato uno ricordate io me lo ricordo l'abbiamo incontrato in un livello di capitano todd non si possono sconfiggere sono immortali vero si sono immortali quindi attenzione ma l'importante è restare in vita e non perdere contro i calamachi ok perfetto allora c'è qualcosa dietro le casse perché forse c'è qualcosa si c'è la prima stella nice ok stella numero uno ottenuta calamaco calamaco magico non mi darai problemi fire ok perfetto va tutto quanto immensamente bene a quanto pari cose escono dalla sopra quindi non voglio andare la sopra a meno che non è necessario quindi tubo preso ed eccoci qui nella seconda sezione degli squali martesto allora vediamo un po cosa qua c'è se c'è un fiore di fuoco nascosto la ah aspetta ho visto un bagliore bagliore verde della stella divina quindi cerchiamo di prendere la stella senza perdere no 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 ok mi sa che devo aspettare qua e mi conviene aspettare qua ok aspettiamo giusto un secondo nel frattempo e gente come va posso per caso far esplodere le no ok la stella è là e non voglio assolutamente perderla quindi anche dovessi perdere un power up abbiamo un altro power up subito dopo quindi sto a posto allora stella stellina abbiamo preso la stellina perfetto adesso posso uscire qualcosa qua c'è niente di troppo utile ma grazie lo stesso allora abbiamo bisogno di un'altra cosa ossia del timbro e dell'ultima stella quindi cerchiamo di non perderli possibile che il timbro sia qua sotto è possibile quindi attenzione nascondiamoci giusto un secondo non è obbligatorio che sia qua sotto ma ok no non c'è assolutamente niente qua sotto quindi ho sbagliato e adesso devo rifare il giro da capo perché ho sbagliato a prendere la strada siamo vivi ancora vai su ok dovrei stare a posto se vado qua perfetto riesce a scendere i pitch ok è vero che posso fare così per scendere più in fretta ups in effetti nuoto poco a me non piace nuotare in questo livello allora checkpoint ottenuto abbiamo bisogno però di altre due cose quindi tadpoles che posso sconfiggere sì ok ma serve sconfiggerle non lo so mi avete inoltre detto una cosa se faccio così a sì mi avete detto che posso entrare nel guscio come si esce dal guscio però ok così praticamente come si entra nel guscio in questo modo premete zl quando avete un guscio in mano cosa che non sapevo grazie mille non credo ci sia niente qui spero che non ci sia niente qui vabbè nel caso rifare il livello vorrei davvero tanto evitare però quindi stiamo attenti allora qua sotto c'è un bellissimo calamaco che non mi darà problemi vero spero ok attenzione fire ok allora attenzione ai pesci squalo martesto vediamo un po qua ci sono solamente monete che possono essere utili ma non a me quindi attenzione allora un po a stella nice però non vedo il timbro quindi devo stare attento per il timbro dolore beh non importa ho preso comunque la stella grazie la stessa allora o no 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 sì no sì ok allora ho mancato il timbro quindi devo cercare un'altra volta probabilmente nella zona che abbiamo visto prima abbiamo poco tempo davvero beh abbiamo anche un'altra cosa abbiamo questo che ci dare un'altra volta il potere allora magari c'è un altro power up spero davvero tanto di sì dai in fretta che abbiamo poco tempo no non c'è niente ok allora dire di sbrigarci e di cercare il timbro più tardi fire flower nice allora attenzione qua stai su fire non posso così ok cosa qua c'è no ok allora mi sa che abbiamo davvero perso il il timbro il che è un gran peccato ma dove sto io ok ma non è un grosso problema andiamo su a tutto e cerchiamo di evitare ah ecco il timbro nice allora entriamo qua dentro abbiamo pochi secondi quindi sbrigiamoci a scendere e a proseguire non importa se perde il power up ci mi dà fastidio ma oh nice ok abbiamo pochi secondi sbrigiamoci un po ok allora 34 secondi dovrebbero bastarci per salire la sopra se non fallisco cento volte quindi è così qua attenzione qua attenzione qua 20 secondi ma con pitch abbiamo raggiunto la cima nice livello completato ok fiuff ero sicuro di aver perso in realtà il timbro lo stampo è uguale si chiama timbro ok lo so è timbro allora adesso è il momento di affrontare il penultimo livello quindi quindi salvataggio completato abbiamo cose nascoste qui sembra di no meglio così non mancare corrente per favore mondo 77 fossa corgogliante ok adesso vediamo un po cosa devo fare in questa fossa corgogliante devo sicuramente vivere e proseguire vediamo un po nessun power up siamo seri a legge boomerang ora dopo ok non fare così tanto la la cosa buon per noi buon per noi la lava comunque non la cosa allora qua c'è qualcosa non c'è niente poi cosa aspetto che deve tipo correre qua vai pitch ok quindi ok no 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 avevo ragione le piattaforme verdi sono sicure le altre no quindi attenzione le piattaforme non verdi tu vai via ma lo posso davvero scacciare vai oh no boomerang boomerang ok vai qua boomerang nice boomerang ok adesso vola fluttua attenzione a dove vai però attenzione qua no si sta risollevando si sta risollevando si sta risollevando la lava ok preferisco restare qui e magari colpire questa palla così ricarde nella lava ok allora adesso possiamo proseguire siamo attenti e andiamo corri pitch abbiamo poco tempo non voglio finire sotto la lava possibilmente ehi robe allora tu vai via tu vai via ho detto ho detto vai via ho detto vai via 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 no ok adesso vediamo un po cosa riesco a fare vabbè grazie non importa se ho perso il power up se riesco a sopravvivere e a prendere le stelle ok adesso fiuff che ci manca o mio dio mostri di lava giganti e la c'è una stella perfetto allora avrei bisogno di un altro power up sarebbe l'ideale guarda però finché non lo trovo non ci posso fare niente la vedo qualcosa ok e ciao ciccio allora la lava sale non posso proseguire finché non scende un'altra volta o no l'anima del martel non è un martel cupa del tartosso ok adesso vediamo se riesco a citare un po il sistema e non mi conviene aspettare qua sopra perché così sono più al sicuro credo spero bam un altro boomerang sarebbe l'ideale guarda ciccio e nice ok adesso attenzione qua bisogna correre per prendere questo grazie ok adesso sono salvo in parte tu vai via vai giù non mi darai problemi dai riesci so che vuoi riuscire ho visto anche l'ultima stella quindi stiamo attenti eccola qua l'ultima stella è stata ottenuta ora adesso aspettiamo giusto un secondo qua perché la lava è un capo istantaneo quindi attenzione ok attenzione qua e fluttuo in aria corri peach ok dovrei esserci uscito andiamo sopra perché c'è una davvero correre corri peach non mi interessa cosa c'era la sopra perché abbiamo finito il live ma sei serio livello that's nice livello completò vingardium le viaggio non so anche non so neanche io perché ogni tanto me ne esco con queste cose ma non importa dobbiamo adesso affrontare il boss del mondo castello barra mondo 7 è uguale come vi ho già detto quindi eccoci qui abbiamo bisogno di tot stelle per andare avanti ma slot machine dovrei avere abbastanza stelle per andare avanti perché figuratevi ho preso tutte le stelle che si potevano prendere fino adesso dov'è il coso e qua sotto sì ma non abbiamo già attivato la slot machine prima cioè ieri c'è boh vabbè pazienza allora oh nice one ball combo due vite extra non si buttano mai siamo arrivati a 89 vite due one up è stranissimo vedere due one up però vero è molto strano ma non è un problema quindi salvataggio completato andiamo avanti e affrontiamo il boss di questo mondo che sia pom pom credo sia pom pom però per adesso eccoci qui abbiamo bisogno di wow ne abbiamo abbastanza Siamo 71 stelle sopra vabbè nuovo scontro al castello di bowser quindi e bowser mi sa che c'è bowser proprio qui vabbè pazienza adesso devo stare attento perché si va contro oh mio dio i si chiamano come questi cosi boomerang bros o qualcosa del genere in ogni caso con pitch è abbastanza easy inoltre potete accucciarvi almeno così si poteva fare in galaxy per evitare di perdere è nice grazie caro e c'è una stella la sotto aspetta un attimo se devo perdere un power up preferisco perdere il power up del oh ok preferisco perdere il power up del fuoco e non l'altro allora qui siamo attenti ci sono questi cosi che mi danno particolarmente fastidio quindi attenzione fire ok se non riesco a sconfiggere con il fuoco li sconfiggerò così ok allora dammi questo oh no oh no continuano a spawnare mi sa eh oh no ah devo dare un calcio tipo no oh no non così ok allora devo fermarli questi cosi o o basta dare un calcio perché non ricordo ok no devo dare un calcio quindi basta fare così ok strike allora la cosa qua sopra c'è si c'è lo stampo perfetto oh mio dio come raggiungo quel coso beh intanto qua c'è qualcosa come faccio a raggiungere quella stella mi serve mi sa Mario gatto come faccio a raggiungere quella stella mi serve oh ok e per adesso non posso raggiungerla mi sa che dovrò tornare qui in questo livello per finire con Mario gatto a meno che non c'è un Mario gatto adesso flutua pitch oh brava pitch bravissima pitch sei un genio pitch ok allora vediamo un po' se riesco magari a non perdere qua ok no non c'è niente qui attenzione dammi il power up del boomerang mi sembra strano però che serva un power up che non si trova nel livello per andare là sopra che io abbia mancato qualcosa perché quella stella non la posso più prendere adesso prenderò un Mario gatto o un pitch gatto insomma per provare a prenderla ma per adesso no ok vai così c'è una stella lì e abbiamo bisogno del boomerang a quanto sembra sì ok quindi mi sa che ci serve solamente l'ultima cosa o forse devo usare questi cosi che un attimo se rimbalzo su questi cosi che succede no ok non rimbalzo di troppo non siamo in 64 quindi mi sa che devo rifare il livello più tardi non è un problema ma devo stare attento vero oh bene grazie e quindi adesso devo affrontare la battaglia boss per due volte perché mi serve anche pitch gatto no mi spiace Hammer Bros non mi darai problemi Hammer Bros grazie ok passaggio sbloccato andiamo ad affrontare Bowser sì Bowser andiamo nuovo scontro al castello di Bowser ora spara pure caro non è un problema soprattutto perché abbiamo il boomerang ecco il boomerang riesce a fare di tutto ok mi sa che il boomerang è seriamente la tattica più adatta per affrontare e sconfiggere Bowser soprattutto perché non sta andando avanti quindi Bowser Bowser no devi lanciare il coso Bowser Bowser lancia il coso Bowser Bowser lancia devo avvicinarmi ok lancio bam ok doppio colpo ne mancano uno tecnicamente lancio fine no mi sa che ci sono molti più colpi da fare allora meglio così meglio così era troppo facile altrimenti quindi fai pure ciccio tanto abbiamo il boomerang ne abbiamo due quindi lancio lancio ho detto no lancio ho detto lancio ah vabbè pazienza aspettiamo giusto un altro turno va bene tanto devo rifare due volte la cosa sapete com'è devo rifare due volte la cosa ok lancia dannazione ok mi sa che devo non far rimbalzare i cosi qua ok no vai perfetto ok allora meglio proseguire giusto un po' questa battaglia boss la ricordavo molto più facile non è un grosso problema e per carità è sempre Bowser ma allora attenzione qua oh no lava lava come lava ok vai lancia pure oh no oh stavo per cadere di sotto poi eh vorrei far notare questo allora Bowser ti fai sconfiggere lisi Bowser 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 lancia i cosi lancia i palloni grazie i palloni Bowser no eh vabbè allora vado avanti io vado avanti io allora eccoci qua no eccoci qua perfetto doppio colpo attenzione qua ne manca uno mi sa di colpo è un peccato aver perso la stella però come vi ho già detto la riprenderemo più tardi ah vero se andare troppo avanti fortunatamente ci riporta qua quindi grazie come on ok fire meglio fare un altro fire ok e adesso boomerang no fallito per favore ok per favore ok no e lancio ok manca mi sa un colpo ancora quindi altri tre colpi mamma mia e devo rifare il livello e devo rifare il livello beh è anche colpa mia per aver sbagliato un sacco di volte quindi vai ok adesso ho capito come si fa bisogna praticamente andare avanti e attirare Bowser nel lanciare le cose quindi vai ok ok mi manca solo un colpo vai così abbiamo 56 secondi devo per forza riuscire a finire in tempo quindi vai Bowser vai mi serve una palla Bowser la palla Bowser la palla Bowser la palla il tempo Bowser la palla il tempo Bowser se fallisco perché Bowser non lancia le palle allora lancia per favore Bowser per favore Bowser Bowser l'RNG Bowser l'RNG Bowser l'RNG ok no fine sì ma devo correre perché abbiamo poco tempo fortunatamente ecco mi ero lamentato l'altra volta del fatto che ci davano questi cosi a cavolo fortunatamente 100 secondi extra grazie mille ora però oh nice ora però devo beh devo davvero? un'altra volta i secondi? devo rifare il livello quindi finiamo il livello e liberiamo l'ultima Fatina questo è sicuramente è sicuramente non Beh, sfortunatamente per le fate devo rifare il livello, però prima a questo punto vediamo un po' com'è, l'ultimo mondo che non avevo spoilerato prima, no? Benvenuti a Bowserlandia, tuttavia, come vi ho già detto, oggi devo finire l'ultimo livello un'altra volta con la tuta di gatto che non ho trovato, quindi adesso devo andare in un altro livello per prendere il gatto e prendere quella stella, perché non so seriamente come arrivarci, quindi ci vediamo tra due secondi. Allora, con il gatto ci arrivo, vero? Direi proprio di sì, perfetto, quindi se avete Peach Gatto o in generale il gatto, dovreste riuscire a fare questo livello senza quasi nessun problema, tanto per dire, ovviamente adesso farò un taglio perché non ho affatto voglia di, ahia, di rifare tutto quanto il livello da capo, e però devo per forza finirlo per completarlo, e quindi sì. Vabbè, in ogni caso ci vediamo dopo la battaglia boss, che spero non sia troppo complessa come prima. Wow! Ok, ho tagliato la battaglia boss, ma ho scoperto perché è durata così tanto la battaglia boss precedente. In sintesi, a quanto pare, se colpite le palle da calcio esplosive di Bowser contro la macchina, dovrete appunto fare più colpi. Ho colpito infatti Bowser tre volte su tre con la tuta gatto e ho finito in pochissimo tempo, seriamente pochissimo tempo, quindi ho sbagliato prima, chiedo scusa. Beh, adesso vi ho mostrato come, vabbè, vi ho spiegato, non mostrato, come sconfiggere Bowser più in fretta, quindi in sintesi entrate in questo livello con la tuta da gatto. In ogni caso adesso, fine livello per la seconda volta, perché la stella è mancata, e quindi io adesso vi saluto, e noi ci vediamo domani con la prima metà. Il primo terzo? Del mondo finale, il mondo Bowser, il mondo otto, l'ultimo mondo. Wink wink, l'ultimo mondo. Quindi, ci vediamo. See you next time, baby. 204 Grazie a tutti.